e allora ragazzi eccoci all'interno del palacattani di faenza per assistere al match decisivo di questa qualificazione mondiale per l'Italia che è costretta a vincere per salvaguardare il proprio posizionamento in classifica secondo posto e quindi bisogna passare per forza attraverso i playoff oggi c'è la Spagna non vincono contro di loro dal 2005 come la vedi Fabio? è molto molto difficile però è importantissima per provare almeno ad arrivare ai playoff dopo l'ultima sconfitta per 4-2 in casa della Slovenia l'Italia è chiamata a rispondere gli azzurri infatti devono vincere perché il secondo posto è a rischio intanto le squadre stanno entrando ora in campo ricordiamo che passano le migliori 4 seconde quindi partita difficile è importantissima decisiva subito grande sponta del pivot e subito gol della Spagna si molto bravi è stato molto bravo in questo caso il numero 9 della Spagna è stato molto bravo nel lavoro di sponta Juan Emilio e ha creato lo spazio giusto gol di Boyce che ha calciato davvero bene Isgrotta e Zeller che scappa via si grava risposta da parte del portiere tiro era potente e preciso brutto errore bravo proprio vero la differenza di passo ecco si in questo momento direi che Juan Emilio sta facendo la differenza per quanto riguarda le occasioni offensive della Spagna però Pietrangelo è arrivato il secondo tiro della Spagna ma sono forti eh si secondo me c'è proprio la differenza di ritmo intanto è entrato Marcelinho uno dei giocatori su cui facciamo più affidamento quindi speriamo che faccia bene uh mamma mia che rischio che gara è toccata no ma secondo me nessuno se l'ha proprio divorato Ramirez qua buona la risposta di Pietrangelo bravo, bravo due volte bravo Marcelinho è arrivato tutto con il guitto di Marcelinho eh non riesce ad arrivare fino in fondo però ottima iniziativa di Marcelinho che riesce a sgusciare via anche Dida che c'è il portiere della Spagna io vedo molto partecipare nel gioco eh guarda come va ad impostare sale alto senza paura guarda come guarda come guarda come guardano l'uomo e non la palla però sì anche in fase di possesso nostra mi sembra che abbiamo un po' di facciamo un po' fatica diciamo a trovare gli spazi giusti bravo non è fallo oddio che presa non è la fallo però in questo momento è quello che si sta prendendo più sulle spalle l'Italia che sta provando di più la giocata che sta avendo un po' più personalità secondo me certo sembrarsi quello per cui deve passare qualcosa si ritena vuole recuperare questa partita che non è facile ma la toccata no tiro alto altra occasione per la Spagna però siccome stiamo un pelo aumentando ah bravo gran giocata di Cortessa ad accentrarsi ancora bravo Pietrangelo a mantenere il risultato sì molto bravo più che altro è che la palla passa in mezzo alle gambe ti aspetti una botta secca oppure uno schema io potrei aspettare anche semplicemente un tocco e tiro Antonio parla attenzione brutto tiro cazzato male l'ha scavata tanto non è riuscito a prendere di collo pieno un toro è un toro davvero forte proprio a prendere posizione a girarsi è davvero forte molto forte sulle gambe molto forte fisicamente l'Italia sta facendo fatica a gestirlo bravo comunque Musmeci ad immolarsi ancora a bloccare il tiro guarda come ha prenduto posizione guarda come proprio si allaccia guarda come si strattona ehi vai Motta nooo bravi però bravi su me l'hanno fatto tutto bene bravissimo di venire dalla Spagna proprio a chiedere all'ultimo che stava arrivando Motta è cattivo però bravo bravo Pietrangelo passato più di metà tempo 1 a 0 però tante parate di Pietrangelo bravo il portiere guarda quanto si alza il portiere però pure per i buoni eh anche perchè se non le avesse non lo farebbe con tutti per il gioco bella bella parata Marcellinio forse se l'è stoppata un po' troppo depilato la canzonandolo questo ho avuto dubbio non ho capito se il portiere abbia parato oppure all'esterno della rete esatto oppure all'esterno del palo abbiamo avuto un tiro illusione ottica ma rischiava stava per ingannare anche il portiere perchè la parola comunque viaggiava forte come out è rientrato Isgro e secondo me serve un suo guizzo serve una sua giocata una delle sue l'asse dell'Olympus in campo mi piace tantissimo la sua frequenza proprio queste finte di corpo che ha è di un'eleganza incredibile Marcellinio però finora aveva fatto la grandissima partita secondo me è chiaramente molto difficile per lui non l'ha fatta l'Italia la grandissima partita fino adesso ma Marcellinio tra i migliori secondo me per ora perchè comunque quello che ha creato di più bella palla Filtranti di Isgro peccato si truppi ancora bravo Otto bello peccato l'ha trattato la porta non era facile comunque perchè non ci è arrivato in maniera pulita si poi è stato anche sbilanciato esatto esatto bella la pressione ok non riescono ad uscire perfetto bravissimo ah peccato dalle salite in cateta per adesso eh attenzione però due contro uno eccola bravo oddio pietro l'angelo pietro l'angelo mi ha sapato dalla gufata però questi sono anche i rischi c'è partita bravissimo Kutrupi bella giocata comunque non so se hai visto ma Kutrupi ha provato ad alzarla ma ci sono tantissimi cambi no? si molto di più rispetto a quanti siamo abituati e la faccia tiro al mister pure nelle altre squadre dai quinto pallo ed arriva anche il giallo attenzione perché mancano due minuti e cinquanta e manca solo un pallo per il tiro libero c'è lo schema parte motta bel tiro peccato bella ha sbagliato lo stop secondo me si ma Kutrupi sta accendendo l'Italia questo momento è dire il migliore dell'Italia in questo primo tempo ma stavolta anche i compagni si chiedono tanto di lui è un fattore comunque per un portiere così bravo con i piedi buona la giocata di Kutrupi peccato l'interimento è arrivato con un pizzico di ritardo però la gran giocata di Kutrupi era entrato Sgro per la nostra felicità bella gran palla di Marcellinio è stata anche deviata sporcata con la spalla peccato arriva Motta arriva Marcellinio Motta palo 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 non è gol anche qui bravo Marcellinio bella Motta di inserirsi a tirare col mancino un po' quello che ha portato la Spagna al gol dell'1-0 10 secondi c'è Sgro dall'altra parte che non viene servito velocizzare Motta velocizzare guarda il cronometro ahhh manca un secondo Motta non riesce a servire Marcellinio Marcellinio chiedeva qual tiro con il destro per andare a chiudere sul secondo palo eh finisce così il primo tempo 1-0 peccato per le 5 palli non siamo riusciti ad arrivare al testo non è una partita facile lo sapevamo Spagna bene un pochino in calo secondo me sì ma anche noi siamo cresciuti sono uscite un po' di più le individualità di Sgro Marcellinio Cotrupi speriamo di continuare come abbiamo finito il secondo tempo e allora Frey eccoci al termine del primo tempo tra Italia e Spagna il punteggio dice 1-0 per gli ospiti un'Italia è partita male è andata sotto praticamente subito poi è reggito bene pian piano col passare dei minuti si è anche avvicinata sensibilmente al tiro in porta cosa che è mancato e al gol che però non è ancora arrivato si è dato il palo per Motta ma l'Italia per me non ha fatto neanche un brutto primo tempo subito a prendere il gol quasi ancora a freddo è stato difficile riprendere in mano la partita però l'Italia secondo me l'ha fatto il livello delle due squadre però è diverso l'Italia sta soffrendo e sta patendo un po' il possesso e la qualità della Spagna secondo te il migliore in campo per l'Italia fino ad ora? ti direi Cotrupi perché ha avuto tantissimi lampi tantissimi colpi secondo me anche il livello qualitativo è fra i migliori della nazionale il numero 16 bene anche Sgro comunque che è sempre un pericolo la nomina vagante commento al volo sul primo tempo dell'Italia messi sotto all'inizio verso la fine si sono svegliati fuori e si spera che riescono a fare bene la Spagna è tanto forte tanto, tanto forte se tu avessi avuto la possibilità avresti scelto l'Italia o l'Argentina? l'Argentina tutta la vita l'Argentina tutta la vita tuo preferito nell'Italia? grande amico Enrico Doni ma il mio preferito è Calderolli dal suo primo gol che è nato a Roma in rovesciata andatelo a vedere su Youtube quel signorino numero 9 è pazzesco allora si parte ti sogni con quella maglia? la maglia è bella eh è un orgoglio incredibile no comunque è anche una scelta di vita importante attenzione attenzione buon Emilio attenzione non ho capito cosa volesse fare bella ho un po' perso il tempo grandissima occasione Traversa occhio Traversa non è gol però davvero forte eh Juan Emilio secondo me è un giocatore più forte che la Spagna è un giocatore che la Spagna mi cade lì si bravo Pietrangio ha voluto forse bloccare l'espuggita? questa grande occasione era praticamente da solo a concludere sul suo diretto avversario eh Marcelinho quando riesce a sganciarsi poi si bravo Marcelinho fare questo lavoro è fortissimo ma che cosa ha fatto a Torino e Sgro? siamo innamorati di questo giocatore ma anche la personalità di arrivare a fare una cosa del genere umiliato totalmente il numero 10 della Spagna non è facile avere anche questa personalità davvero una giocata non da italiano mi entra subito Sgro attenzione è stato spinto a palla lontana da 10 che mi sembra che ce l'abbia con lui mi sembra che non l'abbia presa bene quella bicicletta bravo bravo due contro uno l'assi dell'Olympus nooo eh molto bravo Raia però eh nooo bravo bravo Marcelinho mi sembra che a Cordiglia non è andata giù la giocata precedente di Sgro che qua gli ha chiesto la mano in maniera molto sportiva ma qualcuno rode questo per me è fallo eh adesso applausi meritatissimi per Sgro vi rifacciamo anche noi che sta facendo un'ottima partita è un giocatore assolutamente di altissimo livello cioè pensare che comunque è un 2002 gioca con questa personalità davvero complimenti bravo 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 Pietrangelo quanto ci sarebbe bene vise con la maniera nazionale ottima risposta bravo 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 non rischia niente neanche guardato la palla già sapevo che era là grande tiro di Bois a volo ovviamente la parata di Puzza è la più piccola rispetto a quella da calcio quindi è anche difficile centrarla proprio in pieno bravo bravo miracolosa questa è una gran parata questa è una gran parata grandissima parata grandissimo anche spunto da parte di Mejado che si era andato con una gran rapidità sul sinistro anche tirato bene si è un gran avvicinatissimo migliado è salito in calcio tra di là migliado sta facendo la differenza niente eh peccato secondo gol della spagna gran giocata di migliado che hanno fatte due tre di fila per Juan Emilio deve solamente appoggiare il rete ecco il già portiere di movimento isgro e ci sta ricordiamo che l'Italia serve comunque una vittoria quindi se ando a fare tre gol in dieci minuti ci può stare a mettere il portiere di movimento cioè sto guardando un po' tutti i movimenti ed è difficile trovare il passaggio non rischioso che ti porta in porta si la Spagna chiaramente agisce con un blocco tutto a quattro molto stretto e molto compatto lasciando solo l'esterno libero il centro è un blocco ci vuole pazienza a vedere quando la Spagna spaglia un movimento e sfruttarlo si sta creando un po' di spazio ah non mi è sfruttato bene attenzione alla ripartenza bravo Musumeci faccio la croce da portiere pure Musumeci non dobbiamo prendere il gol adesso perché sfumerebbe completamente le nostre possibilità secondo me qua è stato molto bravo Motta eh quella palla era molto pericolosa tiro il sgrova dentro è masticata sette minuti precisi poi si può dare il sgro su me è poco senso questa giocata perché ci è andata bene no ma devi scaricare il routine adesso la Spagna può gestire bravo bravo Pietrangelo tiro di Motta dalla distanza alto le nostre speranze stanno sfumando di pochissimo a lato ancora Motta gran tiro di Motta non riesce a deviare bene Caldirolli no non era facile per gol non era per niente facile direzzarla verso la porta c'è la dietro errore di sgro entrato facile scappi l'errore più o poi Gisela ci ha provato tanto col portiere di movimento e l'ha forzata qua di sgro c'è da dire che ha giocato anche tanto in questi ultimi minuti certo certo è un errore più di lucidità questo secondo me si esatto non riusciamo a segnare ma per meriti della Spagna più che altro non riusciamo ad essere veloci al giro palla non riusciamo a trovare lo spazio giusto cosa che c'è adesso ancora Musomeci la blocca addirittura l'ha bloccata è fortissimo però veramente una lucidità intanto ancora due contro uno gran parata gran parata gran tiro qua di moto c'è da dire che è ambidestro praticamente no? tira benissimo usa il destro quando si tratta di concludere quando si tratta di tenere il pallone lo usa poco altro errore di sgro niente 4 a 0 ovviamente sono i rischi che si corrono con il partito di movimento forse un po' più superficialità nel senso che ci si è un po' arresi diciamo tanto partita finita mancano 5 secondi sul cronometro i giocatori iniziano già a stringerci la mano quindi complimenti comunque alla Spagna che è una scuola fortissima una scuola fortissima arrivano applausi per l'Italia che non ha fatto neanche la brutta partita secondo me per quella che ha la differenza delle due squadre per lo tempo un po' se l'ha anche giocata nel secondo quando il 3 a 0 va a spezzarti la partita vittoria meritata possiamo dirlo diciamo che poi i punti lo devi fare qua si sono state altre partite quelle perse con la Slovenia grada vincere obbligatoriamente dunque eccoci nel post partita d'Italia-Spagna il punteggio finale 4 a 0 per gli ospiti una batosta veramente pesante abbiamo visto un Antonino Isgro in lacrime alla fine di questo match come avete visto la partita secondo voi l'Italia avrebbe potuto fare qualcosina di più? sicuramente perché si può sempre fare qualcosa di più però sinceramente i singoli in più della Spagna ci sono ed era davvero difficile ribaltare il pronostico iniziale della partita anche per il fattore delle quattro migliori di tutti i gironi l'Italia pare ora che non riuscirà più a passare Fre, tu come hai visto la partita? secondo me comunque l'Italia ha fatto una buona partita special nel primo tempo che è finito un po' in crescita nel secondo peccato perché il 2 a 0 per me cambia veramente tantissimo prima una grande esposta della partita di Pietrangelo poi è arrivato il gol del 2 a 0 per me non si può dire nulla sul risultato la Spagna ha meritato di portare a casa la vittoria l'Italia per me non può neanche avere tanti rimpianti perché la partita da vincere non era questa eh sì sicuramente resta il rimpianto per la sconfitta per 4-2 a Ljubljana contro la Slovenia che condanna gli azzurri comunque alla qualificazione per il mondiale dell'Uzbekistan detto questo quali sono state le vostre vibes dal campo? secondo voi ci potreste arrivare a questo livello? è difficile la nazionale è nazionale sarebbe ovviamente un orgoglio gigantesco farne parte però è una scelta di vita ovviamente ci vuole anche da parte un mio impegno è una mia dedizione che è diversa da quella che sto dando mi dovrei dedicare solamente a questo sarebbe bellissimo la rinazionale vincere il mondiale con me e Fabio i titolari quasi come vincere la GOT con i Pegasus praticamente e allora noi ragazzi vi ringraziamo per aver visto il video fino a questo punto vi ricordiamo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, commentare, condividere speriamo che il video vi sia piaciuto fateci sapere se volete vedere altri contenuti di questo genere noi ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi ciao a tutti ciao